Se avete occupato il mio posto, crederei di lasciare la mia postazione. Io chiedo ai consiglieri di sedersi e dichiaro aperto il Consiglio regionale. Guarda, guarda, guarda quella, leva il microfono, guarda, proprio come la conoscenza è incadibile. Chiediamo le dimissioni del governatore De Luca, facciamo appello alla sua dignità istituzionale. Questo presidente non può più continuare a governare. A causa del comportamento dei nostri colleghi di 5 Stelle abbiamo la Presidente D'Amelio, che in questo momento è a 118 per accertamenti mediti. Presidente, c'è chi chiede le sue dimissioni, che cosa risponde? Risponderei molto volontieri, se non altro per mandarli a casa. Andiamo avanti, senza farci distrarre da niente.